La città sta rinascendo, sta rinascendo in ambito commerciale, industriale, anche se non sempre, avendo nuovamente degli obiettivi da raggiungere e quindi un percorso da avviare ed è giusto che questo percorso ricordi il proprio passato e ritornare alle tragedie greche di Oripide a Gela, dove praticamente nei secoli passati era la normalità, mi sembra, un buon inizio, un ritorno importante per ricordare da dove veniamo e con la consapevolezza di sapere dove dobbiamo andare. Gela è stata grande in passato, può ritornare anche domani e adesso come era una volta. Questa collaborazione tra Proloco e Comune è importantissima e strategica per il futuro per quanto riguarda tutta la programmazione che può riguardare la nostra città in ambito turistico, culturale e per qualsiasi tipo di evento e di collaborazione. Quando l'hanno proposto Chi a Gela si sarebbe promossa l'iniziativa delle tragedie greche, qual è stato il suo pensiero? All'inizio ho pensato che probabilmente sarebbe stata una cosa difficile. In effetti devo dire che è stato più semplice di quanto ci immaginavamo, non perché la cosa era molto facile, perché ho trovato collaborazione da parte di tutti, a partire dai proponenti, a partire dal regista, una collaborazione a 360 gradi che ci ha permesso di trovare subito la quadra, di lavorare tutti per un unico obiettivo, un unico progetto e speriamo che i risultati siano quelli sperati. Grazie. 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 Grazie.